Ciao bambini, oggi vi racconto la storia della farfalla gelsomina. C'era una volta una bellissima farfalla bianca con le ali gialle che sembravano in tinte nell'oro. La farfalla gelsomina viveva in una bella casa in cima a un grandissimo albero. Visto dalla sua casa il mondo era bello, colorato di verde come l'erba, di giallo come le margherite che riempivano tutto il prato lì accanto, di rosso come i grossi papaveri che ondeggiavano al sole, di azzurro come i piccoli fiori di non ti scordar di me e di tanti altri bellissimi fiori. Oltre ai fiori nel prato, sotto il suo albero vivevano tanti suoi amici, Nina la tartaruga lenta e carina, Rocco il coniglio sempre svelto e arzillo, Luca il grillo canterino, Teresa la scogliattolina birichina, Rosa la piccola lucertolina carina carina e poi c'era Cicala Caterina che cantava sempre. Insomma era un mondo bellissimo e colorato. Gelsomina volava tutto il giorno da un fiore all'altro, cantando e rincorrendosi con tutti i suoi amici. Un giorno, mentre girava intorno ad un bellissimo girasole, incontrò Teo. Teo era un bel farfallino, tutto azzurro e bianco con un pochino di blu. Gelsomina restò senza parole, fu amore a prima vista. Teo si avvicinò a Gelsomina e le chiese se poteva volare vicino a lei, e lei gli rispose di sì. Da quel giorno Teo e Gelsomina si sposarono e dal loro matrimonio, dopo un anno, nacquero tante farfalline colorate. Cari bambini, se un giorno in campagna incontrerete una famiglia di farfalle vicino ad una grande margherita, vuol dire che avrete trovato la farfalla gelsomina con i suoi farfallini. Ciao ciao bambini!